Con l'app Mail puoi configurare in modo automatico il tuo account POP3 di Aruba semplicemente utilizzando l'indirizzo email e la password. Per iniziare, esegui l'aggiornamento di iPhone all'ultima versione del software iOS e installa l'app webmailaruba.it. Se in precedenza hai già installato l'app, assicurati che sia aggiornata la versione più recente. Solo dopo, accedi alla webmail di Aruba collegandoti all'indirizzo webmail.aruba.it. Autenticati con il nome della casella che vuoi configurare sull'app Mail del tuo iPhone e la relativa password. Apri il menu in alto, Impostazioni, clicca su Gestisci su mobile dal menu a sinistra. Scegli il protocollo POP3 abilitando la spunta indicata. Adesso apri l'app Fotocamera del tuo iPhone e inquadra il QR code. Seleziona il banner che compare. Nella schermata che si apre, tocca Continua. Adesso consenti per scaricare il profilo di configurazione e poi chiudi. Il profilo è stato correttamente scaricato. Tocca Installa per concludere la configurazione. Convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione del tuo iPhone e seleziona nuovamente Installa e conferma. Inserisci la password della casella e tocca Avanti. La configurazione automatica è avvenuta correttamente. Tocca Fine per chiudere la schermata. L'account è stato correttamente configurato. Puoi rimuoverlo in qualunque momento. Per farlo, apri l'app Impostazioni, Generali, VPN e Gestione dispositivo. Da questa schermata puoi visualizzare tutti i profili installati attraverso la configurazione automatica con QR code. Seleziona il profilo che vuoi rimuovere e tocca Rimuovi profilo. Convalida l'operazione attraverso il sistema di protezione del tuo iPhone e conferma la rimozione del profilo.